Deviato in corner, attenzione gli azzurri ora con Chiesa che prova la conclusione al volo, respinta, pallone che schizza sui piedi di Emerson in area di rigore, Locatelli al limite, Sensi col sinistro e siamo avanti noi, Stefano Sensi da poco entrato in campo, due minuti esattamente, ha cercato l'angolino più lontano alla destra delle portiere avversario Svetkauskas e lo ha trovato Andando a depositare il pallone in porta per l'1-0 della nostra nazionale al secondo, dove qui la pratica per fortuna possiamo andare al raddoppio, vediamo chi c'è sul pallone, Ciro Immobile, a lui quindi la responsabilità di andare ad arrotondare il punteggio sarebbe il terzo 2-0 consecutivo, vedremo se Caracolini la rincorsa Immobile, destro! E Ciro il grande la mette alle spalle finalmente di Svetkauskas, l'arbitro fischia la fine della partita, 3 punti sono arrivati, è arrivato il punteggio... Grazie! Grazie!